Una casa del riuso e del riutilizzo. Conai è stata presente al meeting di Rimini con un vero e proprio mini quartiere dedicato innanzitutto ai più piccoli e costruito sul valore del commuvio, raccolta differenziata, riciclo. Binomio che il Consorzio Nazionale Imballaggi ha da sempre eletto a proprio percorso istituzionale. Meno istituzionale, questo stand realizzato pensando alla valorizzazione del gioco dei bambini che hanno potuto trovare spazi a proprio piacimento per guardare video ma soprattutto per lanciarsi in fantasiose costruzioni con materiale proveniente appunto da riciclo, divertendosi e imparando. Che cosa? Adesso stiamo lavorando assieme a quest'opera collettiva appunto basata sull'utilizzo o il riutilizzo di materiale, di rifiuti rimballo. Cosa stanno chiedendo i bambini? Chiedono qualcosa? Cosa chiedono i bambini? Beh, chiedono da cosa nasce cosa forse alla fine. Valle a dire da questi materiali cosa potremmo ricavare poi. Tappi, sughero, qualsiasi materiale diventava gioco tra loro mani per il divertimento e il piacere di un'informazione diversa anche di chi li ha accompagnati allo stand. Ha accompagnato suo figlio o sua figlia? Sì, i miei due bambini di 7 anni, di 5 anni. Nicola sta facendo un missile spaziale, quindi giocando imparano tutte queste cose e anche a casa sono attenti perché alle volte la bambina che mi dice ma no mamma guarda che hai sbagliato, quello va nella carta. Che cosa sta insegnando ai suoi figli? Si sta cercando di insegnare come recuperare le cose e poi i nuovi prodotti da che cosa nascono, che quindi non per forza la materia prima è qualcosa di nuovo ma può essere qualcosa di riciclato. Soddisfazione ed orgoglio anche delle nonne che, due passi nel quartiere Conai, lo hanno fatto volentieri per vedere i propri nipoti all'opera. Mi fa veramente piacere che i bambini possano partecipare a queste cose. Le mie due nipotine, passando di qua, hanno visto il vostro stand e mi hanno proprio chiesto di poter partecipare a questo gioco e quindi oggi siamo arrivati alle 11.